Stacco della macchina con Mai Genji Napp e Oasis Menna alle prese, veloce, ninfa dei chiari dalla seconda fila che prova a scavalcare Pueblo e ci riesce. Si va all'imbocco della prima curva, Mai Genji Napp, leader, violento lo strappo, 13-8, ninfa dei chiari alle sue spalle, Oasis Menna, aria in faccia con all'altezza del sulchi, Pepi Dabar, che non si accontenta della pareglia ma viene via in terza corsia per cercare di agirare Oasis Menna. 29-5, 400 problemi però per Pepi Dabar davanti alle tribune, allora Mai Genji Napp libero nel condurre, una avanti a ninfa dei chiari, poi Pueblo terzo in corda, Oasis Menna, aria in faccia, Iolo di TS sposta a Stana. Però ninfa dei chiari, chi allarga sul leader dopo 600 metri in 45-1, Mai Genji Napp e ninfa dei chiari in dibattito aperto quando si va dopo 800 metri in 1 minuto e 9 decimi. Si viaggia da 1-16, ninfa dei chiari che insiste a palo lontanissimo, va a pressare il leader che ha richiesto a sbocconate, Pueblo li ha contatto, gli altri a qualche lunghezza dopo un chilometro completato in 1-15-7, 14-7 la frazione, ninfa dei chiari che insiste ulteriormente a 500 al palo ma non riesce a convergere alla corda perché Mai Genji Napp prova a rientrare ma si avvicina Pueblo quando i cavalli imboccano all'ultima curva. Ancora 14-1, 29 scarso il terzo quarto, poco meno di 1-30-2, 3 cavalli in diagonale, Mai Genji Napp, ninfa dei chiari e Pueblo, si avvicinano anche Ione di TS e Laviro D'Anzola quando si entra in retta d'arrivo, Pueblo che scatta a centro pista, prova a rimontare Mai Genji Napp, per buchi Laviro D'Anzola, allargo di tutti Ione di TS, Pueblo che sopravanza, Mai Genji Napp, Pueblo è il momento d'oro di Antonio. Antonio Nanna che vince anche questa, poi tre cavalli sulla stessa linea per le altre piazze, due minuti abbondanti, 30 e mezzo la chiusa, 1-15-2. La media al chilometro, il periodo davvero a frecci e su di Vito Antonio Nanna, ieri assegno a Montegiorgio, oggi assegno qui a Taranto, vince Pueblo, non vinceva da oltre un anno. Porta a casa la vittoria, i colori della News Pub, il training di Angelo Zezzi, mentre per quanto riguarda il secondo di dentro, Mai Genji Napp, numero 4, probabilmente si salva dalla Viro D'Anzola, più allargo c'è Ione di TS, 2-4-3. L'arrivo ovviamente ufficioso della seconda corsa, vinta da Pueblo e Antonio Nanna.